La tua vita è bella Curtis, è il miglior complimento che si possa fare a un uomo, guardare la sua vita e dirgli che verrà. Io amo te. Vado. Ok, ciao. Ma che ti prende Curtis? Sembra un tuono. Cosa sembra un tuono? Ho già fatto questo sogno e iniziava sempre con una tempesta. Non eri in chiesa stamattina Curtis? Stavo pensando di ripulire il rifugio sotterraneo. Che fine hai fatto? Scusami, avevo da fare. Voglio sistemare il rifugio antitornado dietro casa, mi serve una mano. Perché lo stai facendo? Ci servirà. Perché non mi hai mai parlato di questa cosa? Non volevo che ti preoccupassi. Samantha! Tu sei pazzo! Lo sto facendo per noi, so che non puoi capire. Vuoi buttare i nostri soldi per uno stupido rifugio per i tornado? Sua madre soffre di schizofrenia paranoica dall'età di trent'anni. Sentivo quelle persone, mi parlavano, mi ascoltavano. Duarte mi ha detto che Curtis si comporta in modo strano. Nessuno di voi lo ha visto. Ho detto a tutti quello che fai. Lo capisco. È così che tratti gli amici! Stai bene? Sì, sto bene.